nel senso che è un modo di essere ok vai allora vi aspettiamo il 14 giugno domenica 14 giugno a Genova per la... rifare rifare allora chiarimeno domenica il 15 giugno domenica quindi lunedì 15 giugno il 14 c'è questa un conference che però è una notizia d'anteprima la possiamo anche regalare a Viga24 dai dai regaliamo l'anteprima domenica o... domenica c'è l'unplugged conference unplugged conference, fantastico, straordinario se vogliamo già dirla ok vai allora vi aspettiamo domenica 14 giugno a Genova prima di Terroir Vino per la prima unplugged conference ideata da Filippo Ronco qui all'interno vino, web e produttori finalmente insieme a noi e conversazioni si spera conversazioni